Al CRIF Finance Meeting 2014 FINDOMESSIC ha presentato la piattaforma per l'ottimizzazione e il monitoraggio dei processi di valutazione della clientela del portafoglio dealer. Quali sono gli obiettivi di questo progetto? Il progetto da una parte ha un obiettivo di aumentare e sviluppare il mercato del dealer in particolare ma anche quello di fidelizzarlo in un momento, in un contesto economico dove soprattutto quello dell'auto è sicuramente in grande contrazione. Parallelamente con questo progetto siamo riusciti e avevamo come obiettivo e ci siamo riusciti quello di ottimizzare la struttura che gestisce questo mercato e questa attività sia dal punto di vista dell'efficientamento delle risorse ma anche quello della riduzione dei rischi operativi dal momento che questa è un'attività diciamo principalmente gestita a livello manuale ecco quindi diciamo efficientamento, ottimizzazione, sviluppo, fidelizzazione e anche riduzione dei rischi operativi erano i nostri driver nello sviluppo del progetto. Per chi avete scelto CRIF come partner? Abbiamo scelto CRIF perché la relazione con CRIF è storica nei confronti della banca sia dal punto di vista del credit bureau ma anche dal punto di vista della consulenza è veramente diciamo ventennale quindi abbiamo ritrovato in CRIF sicuramente la conoscenza, la competenza che ci aiutava a sviluppare sia dal punto di vista tecnico grazie ai loro già prodotti di workflow e di motore decisionale che avevamo in mente in fase diciamo di analisi progettuale ma poi anche la prossimità relazionale e la loro diciamo disponibilità e flessibilità organizzativa li abbiamo ritrovati molto diciamo allineati ai nostri obiettivi. L'attuale progetto rientra nell'ambito di una più ampia azione portata avanti a livello mondiale da BNP Paribas per la riduzione del costo income. Quali risultati sono stati finora ottenuti e quali gli obiettivi ulteriori? In particolare la tua domanda ci porta diciamo all'ottimizzazione dei processi in ambito cliente privato nell'ambito dell'individual. Sì, il progetto di ottimizzazione delle politiche di accettazione ma soprattutto dell'aumento del tasso di automatizzazione della decisione si iscrive in un programma molto più ampio che è un programma lanciato da BNP Paribas diciamo con un obiettivo quello di riduzione del cost income e che ci ha visti coinvolti insieme a CRIF nell'utilizzo delle informazioni provenienti dal credit bureau nella rielaborazione di queste informazioni allo scopo appunto di aumentare il tasso di automatizzazione della decisione. Questo ci ha permesso di ridurre l'impatto dei costi chiaramente in chiave di full time equivalent con un impatto di circa un milione di risparmio annuo. Grazie a tutti.